dubbi che non c'è più aria, sono ancora in giro quelle con le pagaie non li vedi là? guarda dove devi andare, come prende l'aria hai visto? guarda dove è arrivato Gianni, sono là sotto, guarda ora è 11, là, no, sono là, guarda, è là tutto fanno a me sembra dove c'era la voglia di partenza, è possibile? ma no, guarda, un milio e mezzo dalla linea la barca a comitato dove deve essere qua davanti, siamo a un milio e mezzo sono tutti là, guarda, a ora è 11 la boa è là, quindi andiamo avanti un po' dopo dovremo strambare vedo una barca che sembra quella a comitato là, a ora è 11, la vedi? ecco, fai boa, barca a comitato, un milio e mezzo a questa natura i rosoli una pizza non ti sarebbe mai dobbiamo proprio sputtare sangue quanto non odio? li facciamo pargo un pelo? pargo un pelo in teoria se lui ossa dovrei vedere l'orecchio che inizia a comparire quando stramberemo, questa viene la scata la scotta che hai tu in mano, quella, esatto passa ma per cui c'è dentro fuori? non ho capito stanno la caduta, la ralinga del pizze, no, del gennaker tra il gennaker e lo strallo la scotta deve passare dentro lì è già lì per cui la bugna, che è questa questa va avanti guardami, guardami va avanti, questo è lo strallo va avanti e deve fare passare di qui per cui l'importante è che la bugna passi di là dello strallo se no si incaffra e dopo puoi tirarla e dopo da lì quello che è davanti devi tirarla fino a quello in fondo ma questo perché c'è poco vento a base perché se c'è troppo tanto vento vai orto un belino se c'è tanto vento gira davanti ah, al contrario ho capito perché il vento lo tiene in avanti tirarebbe così quindi con vento la fai esterna senza vento la fai interna perché la tiro, ho capito però dobbiamo andare un po' un po' orzati eh sì prendi un po' di velocità vai vai come fa l'Udo appena appena non tanto 3-4 gradi ok poi anticipiamoci per l'Udo da sotto là ok basta per te che ti agga ok vieni la doccia per fare una strambata senza farla fermare ecco non dare massimo non dare colpi cazzi che va ecco è una strambata 4 scendo un pelo buongi e questo è un po' è un po' un po' un po' è e Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.